Chiedi cinque cose, Berlusconi al mercato dei deputati. Dopo l'onorevole Di Biaggio, anche Muro, di Futura Libertà, denuncia al fatto le offerte di Verdini e poi del Premier, ma sullo scandalo nessun monito. Questa è la rivelazione. Dimmi cosa vuoi e lo avrai, dice anche Muro. Sedotti sulla soglia di Palazzo Grazioli, da Razzi a De Gregorio, deputati e senatori arrivati alla corte di Berlusconi. Poi altre questioni, manifestazioni del passato. Ferrara dice, come avevo già detto io, avevo i manici di piccone, ma in quel tempo era giusto menare. Con il PC abbiamo difeso la democrazia. Portiamo il conflitto in Val di Susa, dice l'ala dura dei Notav. E poi non pagano mai, niente contributo di solidarietà per i ministri e sottosegretari. Sulla manifestazione vi faccio sentire un brano preso da serviziopubblico.it, è il sito di Michele Santoro, 10 euro per farlo tornare in televisione il 3 novembre. Sentiamo questa bella intervista. Hanno fatto un magnifico lavoro su e intorno la manifestazione di sabato. Ora noi naturalmente nel momento più caldo della manifestazione eravamo la prima televisione fra quelle che facevano informazioni. Ma è un peccato perché la concorrenza serve, i cittadini devono essere informati e naturalmente se ci fosse stato Santoro sarebbe ritornato alla grande. Con grandissimi ascolti, altro che 700-800 mila, che pure per noi sono una cifra enorme che abbiamo avuto noi di Regno. Sentite questo brano. Quindi potevano essere isolati, diciamo. Isolati alle 4 e mezza, 5 di pomeriggio invece che la sera alle 7. E i manifestanti venivano da voi agenti e vi dicevano intervenite, intervenite e isolatevi. Sì, però noi come reparto non possiamo muoverci senza un'autorizzazione della questura, perché altrimenti sarebbe un movimento del reparto non autorizzato e dovremmo pagare le conseguenze noi. Chi si doveva assumere la responsabilità di farci intervenire non se l'ha assunta, per paura che succedesse qualcosa all'interno di tutto il corteo. E questi quindi hanno vivaccato in mezzo a questa situazione che vedevano che noi non intervenavamo e quindi continuavano a fare danni, a bruciare macchine e quant'altro. Quindi in pratica voi avete avuto un momento nel quale potevate intervenire, vi sono sfilati davanti e invece in pratica siete rimasti fermi. C'è stato più di un momento, il primo si è creato a largo Corrado Ricci, quando questa Francia viaggiava come dei militari, uniti per file e sotto braccia e marciavano in maniera militare. In quel momento a Corrado Ricci il corteo li aveva distanziati sia all'inizio che alla fine, in quel momento si poteva intervenire. Successivamente hanno dato un'altra chance il corteo dei pacifisti, di coloro che volevano stare in maniera pacifica, all'altezza del Colosseo. Lì si sono proprio bloccati e stavano indetreggiando gli indignati e lì anche non gli è stata data la possibilità agli operatori di intervenire. Guardate che sono agenti che parlano con Michele Santoro a volto scoperto e dicono esattamente i momenti in cui si sarebbe potuto intervenire se ci fosse stato l'ordine, evitando poi la quasi tragedia di piazza San Giovanni. Questa è informazione e questo è servizio pubblico, purtroppo non più alla RAI. Vi faccio vedere la copertina di Vanity Fair, Santoro, chi non mi fa tornare i RAI e qui non parla solo del Lodo Berlusconi che la voleva fuori dall'azienda concessionaria di servizio pubblico, ma anche dai tanti oppositori che gridano ma che poi ritirano la mano. Grazie a tutti.